allora buongiorno a tutti allora benvenuti in questo video di meccanica allora io ho estratto questo esercizio da un tema d'esame del 2011 della sezione ovviamente itis vediamo vediamo di risolvere un paio di punti ok allora avete una foto in figura che rappresenta un un argano azionato manualmente tramite una manovella utilizza il riduttore rappresentato in figura vedete c'è quella specie di riduttore lì fatto da 6 ruote dentate accoppiate il riduttore realizza tre salti di velocità attraverso l'accoppiamento di 6 ruote dentate a denti dritti come di seguito descritto questo è il testo ufficiale del ministero allora la ruota 1 allora adesso magari gli metterò il numero perché non so se si veda bene comunque questa è la ruota 1 poi la 2 avete la 4 qua la 3 è questa la 5 e la 6 ok allora la ruota 1 è solidale con l'albero motore trasmette il moto alla ruota 2 poi le ruote 2 e 3 2 e 3 sono solidali tra loro e sono montate a folle tramite bronzine sull'albero condotto vedete le bronzine sono queste qua che segno adesso in blu ovviamente vedete queste qua sono le bronzine che permettono la rotazione a folle sull'albero diciamo così ok poi la ruota 4 riceve il moto dalla 3 le ruote 4 e 5 sono solidali fra loro cioè sono costruite un unico pezzo sia la 2 e la 3 che la 4 e la 5 e sono montate a folle tramite bronzine all'albero motore la ruota 6 ok è solidale con l'albero condotto e riceve il moto alla ruota 5 ok il rapporto di trasmissione è lo stesso per ogni coppia di attentate vedrete che la ruota 6 è calettata sull'albero utilizzando una chiavetta vedete che è questa qua che vi sto segnando adesso in blu poi avete i vostri i vostri cuscinetti che sono quelli che vedete con una specie di quadrato con segnate le diagonali con una stella e mezzo ok i dati che sono noti sono l'interasse dell'albero motore che è questo ovviamente che è 135 ok questo è fondamentale va rispettato 135 mm il rapporto di trasmissione tra ruote dentate che è 2 quindi omega 1 fratto omega 2 uguale a 2 il materiale pagliabile ruote dentate un c40 la coppia motrice applicata alla manovella è di 20 newton metri ok qua dice il candidato perché ripetono un testo di un esame di maturità ma noi ci interessa poco nel senso che io l'ho estratto facciamo faremo solo una parte perché ho estratto questo testo da un esame e dobbiamo fare il dimensionamento del gruppo delle ruote di ruote 4 e 5 e quindi due gruppi fondamentali di ruote dentate e il dimensionamento dell'albero condotto è un esercizio relativamente semplice sarà abbastanza breve non sarà neanche un esercizio lungo fatemi controllare un attimo se sto registrando perché a volte questo programma crea dei problemi si sto registrando allora la prima cosa da fare è calcoliamo il massimo momento torcente ok quindi segno il titolo allora calcolo massimo momento torcente ok allora il riduttore in esame è azionato a mano mediante una manovella avrà quindi una velocità d'ingresso che possiamo ipotizzare di 60 giri al minuto ci sta voglio dire un giro al secondo no più o meno essendo costituito da tre coppie di ruote dentate con rapporto di reazione pari a 2 il rapporto totale di riduzione sarà pari a 8 quindi avrete un rapporto di riduzione il totale che sarà pari ovviamente a 8 ok e quindi una velocità finale del tamburo che sarà di circa quindi quindi una velocità diciamo n del tamburo sarà di 5 a 7,5 giri al minuto ok or pm detto anche ok la coppia in ingresso è di 20 newton metri dunque dovuto al fatto della riduzione ok 8 volte se abbiamo una coppia una coppia in ingresso chiamiamola così ok di 20 newton per metri vi renderete conto che la coppia è un'uscita ok poiché la velocità è ridotta 8 volte la coppia sarà moltiplicata per 8 quindi avete circa 160 newton per metro ok questa è un'uscita sul tamburo ovviamente chiaro no allora con questa coppia si dimensiona a torsione quindi dimensioneremo a torsione l'albero condotto e si calcolerà il modulo del il modulo delle ruote dentate ok allora l'esilizio ve l'ho detto è abbastanza semplice procediamo al dimensionamento del gruppo ruote 4 e 5 allora qui dimensioneremo l'albero prima a le ruote l'albero utilizzando ovviamente ipotizzando queste velocità che abbiamo detto insomma sostanzialmente queste coppie quindi lo dimensioneremo a a torsione ripeto scusatemi allora procediamo dimensionamento albero condotto allora ve lo segno come titolo dimensionamento albero condotto allora come facciamo allora il materiale abbiamo detto che è un c40 ok un c40 che ha un carico di rottura che va da da circa 700 a 800 megapascal ok mpa diviso un coefficiente circa 8 che verrà fuori circa 100 megapascal ripeto coefficiente di sicurezza è questo per gli alberi si usa un coefficiente che va circa da 8 a 10 coefficiente di sicurezza quindi un eta diciamo che va da 8 a 10 può anche essere 12 dipende poi dobbiamo passare dalla sigma ammissibile alla tau ammissibile perché stiamo facendo un dimensionamento diciamo così a torsione la considereremo di 57 megapascal ok il dimensionamento come lo facciamo ripeto lo facciamo solo ed esclusivamente a torsione quindi il nostro diametro dovrebbe essere maggiore o uguale della radice terza quindi usiamo l'equazione di stabilità torsione molto semplice in cui avete momento torcente per 16 fratto tau ammissibile per pi reco ok quindi l'esercizio è tutto sommato banale per voi che avete visto già i video di meccanica che ho fatto viene fuori 24,27 mm ok questo è il diametro chiamiamolo minimo dell'albero ovviamente ok tenendo conto che c'è anche una sede della linguetta da mettere ipotizzeremo da mettere in corrispondenza della ruota numero 6 cioè questa linguetta qua vedete c'è questa linguetta che va creata una sede no? ve lo segno qua eh linguetta ok va fatta una sede consideriamo quindi un albero quindi un diametro dell'albero di 30 mm così includeremo dentro anche la sede della linguetta perché la sede della linguetta chiaramente ricordatevi che cosa fa? va semplicemente a diminuire la sezione resistente dell'albero cioè la sezione di nocciolo resistente è questo diametro ok? non è quello esterno ci siete? il diametro esterno non è quello perché è indebolito dalla sede della linguetta vedete? c'è questa sede qua che va a diminuire quindi l'albero considereremo un diametro interno più piccolo ok? per questo abbiamo scelto il diametro più grande dell'albero per poter eliminare quel problema no? prima della sede della linguetta fatto questo è molto semplice eseguiamo il dimensionamento il dimensionamento del gruppo ruote 4 e 5 ok? allora consideriamo dapprima il discorso dell'interasse quindi avendo un vincolo abbiamo un vincolo dimensionale importante che è l'interasse che abbiamo detto che deve essere 135 mm e di quello non potete scapparci cioè non c'è niente da scegliere qua dovete tenere questo interasse ok? ipotizzeremo di utilizzare delle ruote che abbiano un numero di denti la prima ruota diciamo Z1 di 30 mm la ruota di pignone diciamo quella più piccola diciamo e la Z2 quella più grande di 60 numero di denti 60 ok? da queste due ipotesi ripeto sono ipotesi che facciamo tramite la relazione che l'interasse è uguale al modulo delle ruote dentate per Z5 più Z6 ok? fratto il tutto fratto 2 sapendo che I è uguale a Z6 fratto Z5 che poi è uguale a 2 ok? da queste relazioni ricaviamo che il modulo ok? che in funzione della nostra scelta ripeto di questa scelta che abbiamo fatto il modulo viene fuori un modulo di 3 ok? abbiamo fatto le scelte ok? e abbiamo trovato il modulo di 3 quindi da queste da questi moduli ricavate i due diametri primitivi della ruota ok? i due diametri primitivi che varranno rispettivamente 90 per quella più piccola e 180 mm ovviamente per l'altra ok? questi sono i due diametri primitivi che vi trovate in funzione delle scelte fatte ok? a questo punto andiamo a verificare col metodo di Lewis la ruota dentata il metodo di Lewis è un dimensionamento a flessione del dente a verifica di flessione del dente come si fa a calcolare avete la formula che vi dice che il modulo deve essere sempre maggiore o uguale della radice terza ok? di due volte il momento torcente fratto y per lambda per z per il sigma ammissibile ok? allora che valore avete da inserire? allora in questa formula avete il momento torcente ok? che sapete che sull'albero condotto abbiamo detto che deve essere di 160 newton per metro poi avete il coefficiente di Lewis quindi chiamate questo qua è il coefficiente di Lewis che se voi andate a vedere le tabelle in funzione dell'angolo diciamo dell'angolo della ruota dentata che lo ipotizzeremo di 20 gradi l'angolo alfa e dal numero di denti che sono 60 abbiamo detto questo ci conduce ad avere un coefficiente di Lewis di 0,421 ok? il rapporto poi lambda ricordatevi che abbiamo già visto nel video della ruota dentata è il rapporto tra larghezza del dente e il modulo quindi è B diciamo così fratto M lo ipotizzeremo stavolta di 10 va da 8 a 14 di solito circa lambda può andare da 8 circa a 14 comunque c'è il video che fa vedere anche queste scelte e poi Z è il numero di denti della ruota condotta quindi numero di denti della ruota condotta ci abbiamo detto che è 60 ecco vedete che l'esercizio era abbastanza semplice l'ho fatto l'ho svolto comunque era un esercizio comunque interessante perché c'erano delle scelte da fare è un esercizio semplice allora sigma e sigma ammissibile è la solicitazione ammissibile che ipotizzeremo di 100 newton a millimetro quadrato o anche detto megapascal perché 100? ma sì perché sapete che c'è tutta la formula per calcolare questa sigma ammissibile comunque partiamo appunto da un valore di 700 800 ok che il c40 ci dava quei 700 800 si fanno dei conti talmente la velocità la precisione del meccanismo ma lo trovate questo nel video che abbiamo fatto precedentemente del del metodo del dimensionamento con il metodo de Lewis e il modulo quindi dovrà essere maggiore o uguale della radice terza abbiamo detto ok inseriamo tutti questi valori quindi 160 quindi inseriamo la nostra copia motrice per 2 fratto riscrivo la formula y lambda z sigma ammissibile quindi y lambda scusate y sigma ammissibile per per z numero di denti ok e abbiamo che questo valore è circa 2,33 mm cosa vuol dire vuol dire semplicemente che abbiamo scelto il modulo di 3 che è maggiore quindi 3 è maggiore di 2,33 e quindi abbiamo scelto un modulo corretto in base quantomeno alla verifica flessione con il metodo di Lewis ok quindi il modulo 3 va bene e quindi abbiamo correttamente dimensionato le ruote dentate ok quindi diciamo che tutto sommato va abbastanza bene allora l'ultima cosa per quanto riguarda il dimensionamento dell'albero condotto allora l'albero condotto quindi ha un diametro ben detto di 30 in corrispondenza della ruota 6 come è già calcolato ipotizziamo quindi uno spessore della bronzina di 3 mm quindi ipotizzeremo ripeto che la bronzina sull'albero sia la bronzina in sezione è questa che vi ho fatto vedere là sopra ipotizzeremo uno spessore della bronzina di 3 mm ok e quindi è ragionevole utilizzare un diametro 24 in corrispondenza delle ruote 2 e 3 ok le ruote 2 e 3 sono ovviamente queste ok quindi l'albero qua avrà un diametro di 24 mentre nella zona dove c'è la chiavetta la linguetta scusatemi avrà un diametro di 30 come abbiamo calcolato ok perché c'è il problema della chiavetta che riduce l'albero riduce la sezione resistente dell'albero ok bene per questo video che abbiamo concluso ci vediamo al prossimo grazie a tutti